Il Movimento 5 Stelle a Cosenza per la sua campagna elettorale cala uno dei suoi assi. Infatti, domenica pomeriggio alle 16.30, a Piazza Kennedy, a sostenere il candidato a sindaco Gustavo Coscarelli e la sua lista, tra i relatori del comizio del Movimento di Beppe Grillo, ci sarà il parlamentare Alessandro Di Battista. Una presenza viene ribadito dai rappresentanti grillini, quella di Di Battista e Cosenza, che testimone il fatto come il Movimento 5 Stelle è presente su qualsiasi territorio, in qualsiasi comune, a sostegno dei propri candidati. Di Battista sarà accompagnato inoltre dalla consigliere regionale della Sicilia Giancarlo Cancelleri e dalla senatore Nicola Morra, mentre per sabato pomeriggio alle 18, in Piazza 11 settembre, il M-TAP di Cosenza, amici di Beppe Grillo, ha organizzato un altro incontro dove si discuterà di criticità ambientali e delle possibilità di migliorare la qualità della vita del territorio calabrese. Al dibattito interverranno Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, il deputato Paolo Parentela, il consigliere comunale Domenico Miceli e ovviamente il candidato a sindaco Gustavo Coscarelli.